sono sempre io andrea bortolussi ora ci sono sono vicino alla meta che vi avevo preannunciato prima con i video precedenti prima di farvi vedere gli animali volevo solo farvi una considerazione il moto perpetuo della felicità di questi animali la natura naturata e naturante eccoli qua questi sono i nostri animali grass feed austria questo è il concetto di benessere fiori erba e piante aromatiche guardate il moto perpetuo della felicità di questi animali ci sono vicino sono circa credo sette metri da me non li voglio disturbare perché loro non è che vedano molte persone durante il giorno conoscono i loro proprietari ma non sono proprietari sono chi li coccola gli aiuta nella vita e nella crescita guardate stanno procedendo pian piano insieme in branco come era 200 anni fa non c'è più concetto di allevamento qui qui si lasciano da soli allevare si allevano da soli e vita eccoli spero di riuscire a fare un zoom con le mie modeste parchiature guardate io sono qui vicino loro quello che vi avevo promesso ora c'è grass feed austria e tutto grazie al signor l'arrivo colomberotto aspetta ancora qualche secondo per farvi assaporare anche a voi questa essenza è una scena da film spero riuscite a sentirli mentre respirano è una musica ci sono anche dei vitellini guardate che armonia armonia del territorio natura maturata grazie grazie concludo qui vi ringrazio tutti a presto